Nessuno che abbia osato sfidare Satana è mai potuto ritornare indietro. E' sostanzi? E certo la Espera com molti amici o mi temere di cuore. Ma io è invincibile! Sono tornare la gente in merderins d'info per l'esterno! Nooo! 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 Ohilene! Nooo! 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 Lorenza che non io sai gio pure! Maderman is with the ass! Nooo! When he's a final battle turn! Mi affronterò nella posizione che ho adottato dal giorno in cui sono nato. Nessuno è mai riuscito a sopravvivere agli attacchi che io ho scagliato da questa posizione. Tu eri convinto di essere invincibile? Sì! Ha! 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 La mia.. Ma non me lo facciamo i teneri di cuore! Eccolo dove perdiscono i teneri di cuore. 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 Non sei altro che un pauroso coniglio paragonato a me Che cosa ti ha fatto credere di essere in grado di affrontarmi vittoriosamente?